E approfittare ragazzi della vostra presenza per ringraziare in modo particolare anche attraverso voi l'Aeronautica Militare e l'Agenzia Spaziale Italiana per averci concesso questa straordinaria possibilità, soprattutto a voi oggi di poter interagire con Samantha ma anche alla nostra terra di ospitare l'inizio di questo tour post-life che Samantha fa assieme ai suoi colleghi in giro per l'Italia. Per noi naturalmente è un grande onore, oggi, stamattina abbiamo conferito a Samantha l'Aquila di San Venceslao cioè la massima onoreficenza della nostra provincia per i suoi meriti, per quello che ha saputo fare però sono convinto che ciò che più le farà piacere sarà soprattutto sentire il vostro calore, sentire anche la vostra curiosità sentire e percepire anche il vostro impegno e la vostra voglia anche come lei ha saputo fare di darvi delle sfide e degli obiettivi ambiziosi. Penso che il messaggio che oggi ci lascerà sarà soprattutto questo. Io vi faccio un augurio, oggi parleremo di rampe di lancio, voi siete impegnati a costruirvi un po' di pezzetti della vostra personale rampa di lancio, vi faccio un augurio che da questa rampa possiate spiccare per dare ciascuno di voi il volo che più gli si confà e quello che vuole veramente realizzare nella vita. Buona giornata a tutti e grazie davvero per la vostra presenza.